Musica Vuoi mantenerti in forma? Vuoi fare una sana palestra? Ti piace la box? Detta anche la nobile arte? E allora vai al Boxing Club di Castellammare di Stadia, in via Napoli 344, zona Cantieri Metallurgici. Troverai personale qualificato che ti accoglierà e ti permetterà di seguire il tuo sport preferito. Se vuoi contattaci allo 081 870 7523 oppure altri 39 43 44 675. Ci puoi seguire su Facebook, Youtube, Twitter e Instagram. Boxing Club ti rimette in forma. Una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Via Europa 82 a Castellammare di Stadia. Siamo in compagnia di Manny, diciamo anche con il mister Lucarelli. Si portano a casa tre punti, tre punti fondamentali. Tu facevi parte del Catani che è stata eliminata la Juve Stabia. Temivi un po' questa partita o è rivenuto qui con l'idea che noi siamo una grande squadra? Comunque noi siamo una grande squadra, sembra, quindi non è facile. Noi lo sappiamo che a Castellammare una partita è difficile, quindi abbiamo fatto il massimo per contare altri punti a casa. Quindi all'ultimo minuto abbiamo fatto, sono contento. Dal settore giovanile alla prima squadra stai diventando un po' la certezza di questo Catani? Sì, lo so, non è facile, però comunque sempre sono contento da Catani per salire anche in Liga con squadra grande, quindi mi fa pensiero. Oggi abbiamo visto un ruolo un po' inedito per te, più in termini al centrocampo. Come ti trovi in questa posizione? Sì, faccio tutti i due ruoli. Altro è basso, quindi mi stanno detto entri o vai a puntare, quindi vengo per prendere palla sempre, prendere palla e sparso per puntare. Quindi alla fine abbiamo fatto. Tre punti per incorrere questo Lecce? Tre punti, tre punti è un po' importantissimo.